only on the victims, but also on their families. Ritorniamo in diretta. Le persone giustamente chiedono, ma voi che siete chiamati ad avere... Il Santo Popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza. Che gli obbediscono. Quindi le ferite...